Cancellare un sito da wordpress.com è molto semplice. Andate su My Blogs per avere la lista dei vostri blog e poi su Change Themes. Andate su Tools, Cancella sito, Delete site. Selezionare l'opzione Permanently Delay My Site. I want to permanently remove the late site. Si verrà inviata una mail dove all'interno abbiamo un link. Cliccando sul link il sito verrà cancellato. A questo punto se andiamo a verificare My Blog vediamo che nella lista non c'è più il nostro sito. Vi aspetto al prossimo tutorial e non dimenticate di iscrivervi su www.pecoramannara.com Grazie. Grazie.